Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby, l'informazione sulla palla ovale sui canali social di Per Sempre News. Apriamo con una brutta notizia, il mondo del rugby è il lutto e si è spento all'età di 65 anni, Fabio Trentin, mediano d'apertura del Petrarca, aveva vinto due scudetti nell'anno 80 e nell'84, nazionale numero 354, diverse presenze dal 79 all'81, quando all'epoca la nazionale italiana era diretta, il coach era il grande, il francese Pierre Vilpré. Ancora un'altra notizia, sempre in campo internazionale, Ken Owens ha annunciato il ritiro dal rugby giocato, Lo sceriffo gallese chiude la carriera sul campo dopo 91 cap secondo la nazionale del Galles e 274 presenze con gli Scarletts. Guinness Women's Six Nations, domenica scorsa si è giocato il terzo turno, le azzurre di coach Giovanni Nanni Raineri erano a Parigi, appunto il match era Francia contro Italia, la Francia ha battuto l'Italia, le azzurre 38 a 15. Una Francia che ha preso, ha dominato nettamente tutto il match, ottima la salita difensiva, la velocità, la rapidità dei tre quarti, la capacità di saper trovare gli spazi e far male soprattutto nei 5 metri. L'Italia ha cominciato forse un po' a rilento il match, sembrava quasi un remake di quello con l'Irlanda, anche se per quanto riguarda l'Irlanda poi alla fine le azzurre quel match lo hanno vinto. Niente, la Francia domina tutto il primo tempo, alle azzurre concede soltanto un calcio di punizione, quindi soltanto 3 punti. Azzurre che provano a cambiare marcia nel secondo tempo, arriva la doppietta di Alissa Dinka, la Dinka che illizza proprio per questo turno, quindi il match contro la Francia per due premi, il player of the round e il try of the round. Vedremo come andrà a finire, ci sono le francesi, le scozzesi e le inglesi. Nel secondo tempo provano a cambiare marcia, ma insomma il risultato era già molto a favore delle francesi. Prossimo appuntamento, questa settimana, questo sabato, il 20 di aprile, se le azzurre tornano a giocare il loro secondo match qui in Italia, si gioca dall'Anfranchi di Parma contro la Scozia. Due settimane consecutive per arrivare poi al 27 di aprile, l'ultimo match a Cardiff contro il Galles. Entrambi, almeno su carta, potrebbero essere dei match favorevoli alle nostre azzurre, però bisogna un po' vedere come si entra con la testa, soprattutto la Scozia ha bisogno di recuperare il punteggio, la Francia punta a vincere queste sei nazioni, quindi tra virgolette, sempre detto tra virgolette, perché al triplice fischio finale, all'ottantesimo minuto, insomma si determina chi è la vincitrice, insomma la Francia, almeno su carta, sicuramente nettamente superiore a questa Italia. Restiamo sempre nell'ambito della nazionale, gli azzurrini, più precisamente la nazionale Under 20, è stata definita l'agenda per il Mondiale 2024, quindi l'Under 20 Championship. Gli azzurrini cominceranno i raduni il 22 di aprile, il primo test match sarà contro la Spagna, San Benedetto del Tronto, il 15 di giugno. Gli azzurrini sono nella Pool B insieme a Irlanda, Australia e Georgia. Le qualificazioni il 29 di giugno, i play-off il 14 luglio, le finali il 19 di luglio. Passiamo alla Challenge Cup, dove è rimasta giocare la nostra franchigia, la Benetton. Benetton che ha battuto il Connacht, sua terza vittoria consecutiva, consecutiva erano i quarti di finale, quindi la Benetton si è guadagnata l'accesso alla semifinale di Challenge Cup. Già questo è un risultato storico per quanto riguarda la nostra franchigia. Per quanto riguarda i match della Challenge Cup, vi ricordo, si possono seguire sulla piattaforma Sky Sport. Nelle United Rugby Championship, gioca anche la nostra franchigia, lo sappiamo, le Zebbre, abbiamo quattro arbitri italiani. In Glasgow, Sharks, l'arbitro sarà Federico Vedovelli e il TMO sarà Matteo Liperini. In Lions, l'Ainster, l'arbitro Gianluca Gniecchi, TMO Andrea Piardi e Benetton Dragons. Gli assistenti saranno Filippo Russo e Alex Frasson. Anche per quanto riguarda il nostro URC, il nostro United Rugby Championship, vi ricordo che è possibile seguirlo sulla piattaforma Sky Sport. Rientrando su quelli che sono i nostri campionati nazionali, la Serie A Elite Femminile è ancora ferma, sono già tre settimane, bisogna aspettare che si chiudano gli impegni della Nazionale Femminile nel sei nazioni. Sabato e domenica, però, con gli anticipi e posticipi, è andato in scena il diciottesimo turno, quindi l'ultimo di regular season. per quanto riguarda la Serie A maschile, quindi precisamente la Serie A Elite maschile. Negli anticipi di sabato, Lions Colorno è finita 23-26, Petrarca batte il Mogliano Veneto 38-28. Domenica, Fiamme Oro, Viadana è finita 20-35. Il Viadana nega la possibilità ai poliziotti romani delle Fiamme Oro di accedere ai play-off. Ancora Rovigo-Rangers-Vicenze è finita 54-7. La classifica ci dice che il Rugby Viadana chiude la stagione regolare al primo posto con 61 punti. seguita da Rovigo subito dietro a 60, il Petrarca a 54, Valoregby Emilia 47, Colorno 46, Mogliano Veneto Rugby 33, Fiamme Oro restano a 31, Lions 28, chiudono la classifica, il Rangers-Vicenza con tre punti. Per quanto riguarda i play-off, nel primo girone abbiamo il Viadana, il Valoregby e il Colorno. Nel girone 2 se lo giocheranno il Rovigo, il Petrarca e il Mogliano Veneto. Già sappiamo dalla classifica che retrocedono in Serie A il Lions-Piacenza e il Rangers-Vicenza. Si comincia il 27 di aprile, si chiude il discorso dei play-off il 12 di maggio. Quindi poi ci saranno tre settimane consecutive di pausa per arrivare alla finale Scudetto del 2 giugno che sarà trasmessa in diretta sia su Rai 2 che sulla piattaforma da Zon. Per quanto riguarda la data di questa finale ci sono delle forti polemiche. Guardandola da un punto di vista tecnico, quello del ragionamento dei club, degli stessi giocatori, dei tecnici, tre settimane di pausa, poi andarsi a giocare una finale non è una cosa abbastanza piacevole da fare. C'è però da considerare il discorso che sta facendo la federazione. Ovviamente bisogna seguire quelli che sono gli impegni, insomma, quelle che sono le dirette della Rai. Se facciamo un rapporto con quella che è stata la finale Scudetto dell'anno scorso, ci dice che l'hanno guardata più di 400 mila spettatori con una punta di share del 2.3%. Quindi ecco perché sarà così lontana. Comunque alcuni club hanno annunciato che vogliono protestare per questa data del 2 giugno. Vedremo un po' la federazione come metterà, cosa deciderà di fare. Per quanto riguarda la campagna ovale, la scorsa domenica si è tornati a giocare in regione dopo una pausa di tre settimane, subito dopo, insomma, la Pasqua. Per quanto riguarda la Serie A, il rugby capitolina batte in casa il nostro Napoli a fragola per 38 a 20. Due match di Serie B, la Rechi-Salerno perde contro il Colleferro 5 a 54. Rugby-Benevento contro l'Aquila finisce 0 a 68. Il Benevento in questo momento si trova ultimo in classifica e bisogna, insomma, tornare a qualche altra vittoria. Abbiamo, a proposito di questo match, Benevento-L'Aquila, il commento del nostro amico Annibale, il nostro amico Chicco Fusco, il responsabile tecnico del Benevento Rugby. Ciao Massimo, buongiorno a tutti. Allora, domenica abbiamo avuto una brutta sconfitta in casa, Benevento contro l'Aquila. Abbiamo perso 62 a 0. È inutile dire che è stata una partita ovviamente a senso unico, dove abbiamo subito dal primo minuto fino all'ottantesimo. Sicuramente l'Aquila è una squadra buona organizzata, una delle migliori squadre del campionato, tanto è vero che è prima in classifica con 10 punti di vantaggio e molto probabilmente al 90% salirà direttamente in Serie A. Il problema purtroppo non è tanto il livello della squadra avversaria, ma è il nostro livello che mi preoccupa, nel senso che abbiamo ancora tre partite da fare e siamo a pari punti adesso in ultima posizione con il Perugia. Abbiamo queste tre partite da fare in cui ne dobbiamo vincere almeno una sicuramente, ma almeno due per essere sicuri della salvezza. Il problema nostro, della nostra società, della nostra squadra in generale, è che la sosta che c'è stata per esempio in queste due settimane, tre settimane in cui non si è giocato, invece di giocare al nostro favore ha giocato al nostro svantaggio, perché gli allenamenti sono stati, i ragazzi sono stati un po' latitanti per varie questioni, c'è stato qualche infortunato, qualche squalificato, insomma i numeri sono quelli che sono e abbiamo fatto una delle peggiori partite del campionato. Ma non abbassiamo la guardia, aspettiamo fiducioso queste ultime due o tre partite che ci rimangono e speriamo di farcelo. È un campionato in cui abbiamo cominciato veramente da zero e siamo riusciti a costruire un buon gruppo e speriamo di farcela. Il nostro sogno, il nostro scudetto è quello di rimanere in Serie B. Grazie e a presto. Per quanto riguarda la Serie A femminile, il nostro Neapolis Rugby femminile continua a fare poker. Otto uscite, otto vittorie. Batte il Bisceglie in casa 68 a 0. Anche in questo caso abbiamo il commento tecnico della nostra amica Laura Petrosino, la terza linea del Neapolis Rugby femminile. Laura ci spiegherà, insomma, il Neapolis con due giornate di anticipo si è già qualificata ai play-off, intendono mantenere l'imbattibilità e provare a fare uno step. Alla semifinale ci sono già arrivate, vogliono vincere la semifinale, ma soprattutto puntare alla finale scudetto. Neapolis Serie A che è comunque impegnata anche nel discorso della Coppa Conference, quindi insomma le nostre ragazze del Neapolis Rugby femminile hanno diversi impegni nei prossimi mesi. Allora, è stata una partita decisiva, ovviamente perché ha rappresentato per noi la qualificazione diretta alle semifinali scudetto, quindi per i play-off, con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. quindi siamo contenti di averci entrato, diciamo, uno dei tanti obiettivi della stagione. Dall'altro lato però è stata una partita un pochetto sotto tono, siamo, tra virgolette, contente di aver ripreso, diciamo, in questo modo dopo la fine di una pausa durata un mese e mezzo, quindi parliamo di praticamente 40 giorni, 45 giorni senza giocare, quindi partire con questo 68 a 0 è stato sicuramente soddisfacente per noi perché ha rappresentato la riuscita di molte cose che abbiamo comunque provato durante questo periodo di stop ed è stato un buon modo per spezzare il ghiaccio per tornare poi all'attività di praticamente questi due mesi che ci vedranno impegnate praticamente tutte le domeniche. Dall'altro lato però è stata una partita, diciamo, un po' a senso unico, infatti nel secondo tempo abbiamo perso un pochetto di lucidità perché abbiamo cominciato un po' a giocare di individualità prese, diciamo, dalla foca del momento. A un certo punto abbiamo messo in cassaforte i risultati e quindi abbiamo cominciato a provare anche delle cose un po' fuori dagli schemi e ovviamente nessuna partita migliore di questa per provare queste cose. Quindi la nostra resta adesso è rivolta alle prossime partite, soprattutto alla partita di questa domenica che sarà contro il Benetton Treviso per il plate delle partite che stiamo facendo tra Serie A e Elite questa Coppa Conference e poi, diciamo, ha l'obiettivo di finire il campionato, di concludere sempre in battute e di poi riversare tutte le nostre energie, tutta la nostra concentrazione sulle semifinali di Scudetto e perché no la finale? Questo è il nostro obiettivo. Quindi testa alta e si lavora. Andando avanti abbiamo per quanto riguarda la Serie C regionale Napoli a Fragola batte il Brindisi 26 a 19. Per quanto riguarda l'Under 18 regionale Tigri Rugby Bari, Amatori Rugby, Torre del Greco Lions non è stata disputata. È stata disputata per quanto riguarda l'Under 16 la finale regionale. Napoli a Fragola ha battuto il Rugby Benevento 31 a 28. Questa finale è stata giocata sul campo neutro il Giuseppe Leone, il campo del GS Rugby Pomigliano. Il Napoli a Fragola vincendo questa finale ha conquistato il titolo di prima squadra del Sud Italia. Entrambe, sia Napoli a Fragola che Benevento dovranno scontrarsi ancora e restano tra le prime 12 squadre in Italia che si contenderanno lo Scudetto. Ancora Under 16 Coppa Appia Antica Polisportiva partendo per Rugby Rugby quarto circolo Benevento è finita 17 a 12 Santeramo Tigri Rugby Bari 17 a 29 Per quanto riguarda l'Under 16 la Coppa Campania abbiamo la classifica finale al primo posto il Campobasso al secondo posto Black Knights al terzo la Rechi Salerno al quarto posto abbiamo l'ASD Salerno Rugby Under 18 Interregionale Napoli a Fragola Frascati Rugby 26 a 41 Villa Panfili Polisportiva Partenope Rugby è finita 35 a 24 Ascoltate, seguitevi i commenti sia di Laura che di Chico ci spiegheranno meglio un po' la situazione il Benevento avrà tre match importanti ha bisogno di risalire dall'ultima posizione per quanto riguarda il Neapolis Rugby femminile possiamo soltanto augurarle di andare ancora più avanti e di arrivare a contendersi di arrivare alla lotta alla finale per lo Scudetto vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi do appuntamento ad una prossima puntata di Tutto Rugby testa bassa, palla ben stretta l'obiettivo è la meta saluti ovali a tutti Ate me Ciao a tutti